Da casa delle vacanze per gli insegnanti a residenza per i disabili e i primi ospiti saranno profughi dell'Ucraina con problematiche già ospitati in Veneto. Era uno stabile non più utilizzato, quello che con un accordo che non ha precedenti in Italia ha visto mettersi insieme Regione Veneto e ULS2 marca trevigiana con l'Inps, proprietario della villa Farra di Soligo nel Trevigiano, per la quale dal primo giugno inizia una nuova era. Nel giro di un mese e mezzo l'Inps ha fatto i lavori, noi adesso provvederemo ovviamente alla gestione ordinaria, quindi il cibo, il lavaggio delle parti, dei vari immobili, pulizie eccetera e naturalmente operatori che metteremo, quindi lo psicologo, la sede sociale, l'educatore professionale e il medico che passerà ovviamente se serve e nella struttura. Si può dire che questo accordo apre una strada nuova anche per organizzare i servizi? Si, è una strada nuova perché prima di tutto lavoriamo sul dopo di noi, quindi sui gruppi appartamento, quindi ragazzi della disabilità che stiano insieme, autistici che stanno insieme con altri ragazzi disabili, in modo da creare un movimento positivo di scambio anche di idee, di modo di vivere insieme e danno soprattutto a queste persone autonomia che è la cosa fondamentale. Una residenza che dopo i velocissimi restauri risulta irriconoscibile rispetto a prima, quantomeno negli interni destinati ad ospitare da 40 a 60 persone una volta completato il quarto piano. Alle spalle una storia lunghissima, presente già nel catastro napoleonico, passata per varie proprietà private fino a che l'Inps non se l'è ritrovata nel patrimonio immobiliare ereditato dall'Impedat. Il patrimonio Inps le stiamo recuperando tutte, il Presidente Tridico dava proprio questo segnale, ne abbiamo a Fano, ne abbiamo a Ostia e stiamo tutte cercando utilizzi di questo tipo, tant'è che è stato dato anche un assetto quadro di partenariato dal CDA, quindi una specie di convenzione quadro che viene poi utilizzata per replicarlo. Qui in Veneto, e ve lo diceva il Presidente della Regione, la Regione possiede altri immobili che avrebbero caratteristiche analoghe e che se questo modello funziona come siamo certi potrebbe diventare la modalità di utilizzo alziché andare verso la direzione dell'alienazione. Questo è un bene di qualità, abbandonato, non più utilizzato e pensare che riprende, torna a nuova vita, dando questo servizio alle famiglie, alla disabilità, in particolar modo ai bimbi autistici che rappresentano un neonato su 77 che nasce e è autistico, direi che è un bel segnale. Frato un modello replicabile in maniera tale che lo dimostreremo con i fatti già nelle prossime settimane, abbiamo già identificato altri edifici da destinare a queste attività. Grazie.